salve torelle salve torelli come state oggi ci ritroviamo in un altro video dove vi presenterò un'azienda con la quale ho avuto modo di collaborare voglio sempre ricordarvi che questo video presentazione quindi vi mostrerò comunque i prodotti diciamo facendo una breve presentazione però poi per la recensione accurata dettagliata io vi invito sempre a visitare il mio blog quindi spero che mi segua anche lì per leggere tutte le recensioni accurate allora l'azienda in questione si chiama meili cosmetici ed è un laboratorio che comunque produce prodotti artigianali che comunque non contengono parabeni non contengono petrolati o comunque antiossidanti artificiali l'unico antiossidante che viene utilizzato è la vitamina e che comunque è un antiossidante di origine naturale allora quando ho avuto modo di traprendere questa collaborazione con l'azienda mi è piaciuto moltissimo il fatto che mi abbiano fatto scegliere il prodotto che io comunque volessi testare in tutta comodità in tutta tranquillità e questa è una cosa che apprezzo molto perché delle volte può capitare che un'azienda mandi un prodotto al quale comunque io non sono interessata e quindi io comunque di cui io non abbia bisogno e quindi poi lì un po' la recensione è un po' così nel senso può capitare che poi uno possa rimanere diciamo male perché poi non ha potuto proprio diciamo apprezzare al cento per cento il prodotto se abbiamo capito cosa voglio dire comunque quindi questa è una cosa veramente ottimale il fatto che comunque io abbia potuto scegliere questo prodotto certo ovviamente di prodotti interessanti ce n'erano parecchi sul sito però dovendo scegliere ho cercato di prendere qualcosa che comunque volevo veramente testare e infatti ho scelto di provare questo prodotto qui lo struccante occhi e viso al fiordaliso allora vi dico subito che questo questo struccante che da ben 125 ml si questo struccante ha una profumazione quasi quasi impercettibile quindi comunque se ha odiate struccanti che abbiano profumazioni pazzesche comunque vi faccio venire mal di testa state tranquille perché questo è un prodotto proprio tranquillissimo solitamente so che il fiordaliso questo comunque ha un'azione elenitiva rinfrescante quindi io questo mi aspetto da questo prodotto ovviamente il fatto che sia bifasico è molto interessante perché io tranne qualche marca diciamo da supermercato non ho avuto mai modo diciamo di approcciarmi a questo tipo di prodotto quindi questo prodotto che avesse queste due azioni combinate ora ve lo mostro subito la confezione il packaging è molto semplice eccolo qui nulla da dire è una confezione comunque pratica leggera comodissima anche da portare comunque in vacanza visto che ci stiamo avvicinando all'estate allora se giro la confezione potete proprio notare la differenza tra la parte di sopra e la parte di sotto quindi si nota veramente benissimo ovviamente prima di utilizzare questo struccante è sempre consigliato agitare la confezione in modo tale che le due sostanze possano unirsi per darvi proprio il meglio di questo prodotto quindi questo è un prodotto che cercherò di utilizzare veramente per abbastanza tempo io veramente ci tengo a volte le aziende non sono diciamo molto felici che io faccia un po' loro attendere però veramente io non lo faccio perché sono sfaticato sono una pigrona lo faccio proprio perché voglio vedere effettivamente il prodotto nel tempo quanto possa rendere perché comunque ci tengo cioè alla fine una recensione fatta con i fiocchi dovrebbe essere sempre così quindi mi scuso se delle volte le recensioni non arrivano subito però questa è una cosa una prerogativa che non mi va proprio di cambiare quindi questo è il prodotto che proverò poi ovviamente c'erano altri prodotti che comunque io ero curiosa di provare loro comunque mi hanno mandato in versione campioncino ovviamente trattandosi comunque di campioncini potete comunque ben capire che sarà sempre comunque un'opinione così molto generale molto superficiale perché comunque il campioncino non permette proprio proprio di farsi una piccola idea sì però non permette proprio una recensione dettagliata allora i campioncini si presentano in questa maniera sono fatti così è un mondo crudele che non mette mai a fuoco comunque questo è un piccolissimo campioncino come potete vedere di gel ve lo dico io perché qua mentre mette a fuoco si fa notte non capisco perché lo mette a fuoco di gel estratto di arnica allora non so voi se conoscete comunque questo questa pianta l'arnica comunque è un prodotto veramente utilizzato per venire le infiammazioni quindi dolori articolari comunque muscolari e comunque è un prodotto veramente super efficace io infatti da quando ho iniziato a provare questi prodotti anche grazie ad altre comunque collaborazioni all'arnica comunque all'articolio del diavolo queste piante così particolari io veramente ho abbandonato i prodotti diciamo più famosi che si vendono più nelle farmacie perché comunque trovo che siano veramente dei prodotti super validi e comunque in pochi minuti veramente riuscite già a percepire quel sollievo e sono veramente buonissimi quindi comunque se vi capita di provare i prodotti all'arnica io ve li consiglio sono veramente buonissimi mannaggia mannaggia non mette a fuoco comunque questo è il primo campioncino ho ricevuto vari campioncini di questo invece questa è una crema estratto di arnica e anche questo qui ovviamente è sempre un piccolo campioncino però comunque come vi ho detto di questi prodotti veramente ne basta una piccola proprio una piccola quantità per ricevere già dei piccoli benefici quindi poi 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 questo è un altro gel estratto di arnica io comunque ve li mostro tutti per correttezza quanti campioncini ho ricevuto poi questo qui mi hanno visto che comunque io devo anche pensare ai maschietti di casa quindi quando io mi capita di provare dei prodottini mi viene sempre chiesto anche diciamo dal mio papio comunque dal mio fidanzato di provare qualcosina giusto per loro mi hanno mandato anche un campioncino di emulsione dopo barba antirughe perché comunque diciamocelo non siamo solo noi donne che vogliamo essere sempre al top ma anche i maschietti vogliono sentirsi belli quindi questo è un campioncino che farò provare molto veloce altrimenti questa recensione diventerà assurdamente lunghissima poi anche una crema viso per uomo quindi questa veramente se la dovranno contendere mio padre e mio fidanzato molto utile crema viso esfoliante alla silice si dice scusate questo però è un campioncino abbastanza cicciotto quindi penso che su questo penso che potrò farmi un'opinione un po' più chiara diciamo quindi anche questo qui qui vedremo un altro emulsione dopo barba antirughe io i campioncini veramente li adoro sono veramente comodissimi quando uno si trova fuori casa comunque l'ultimo campioncino che vi mostro è questo qui un altro gel un'altra scusate crema estratto arnica 30% e quindi questi sono tutti i prodottini che ho ricevuto dall'azienda Meli Cosmetici allora quindi io ovviamente li proverò vi lascio tutte le informazioni nell'info box e presto sul mio blog troverete la recensione mi scuso per questa voce un po' comunque altalenante delle volte va delle volte viene ma comunque alla fine del video sono riuscita a girarlo quindi va bene così io vi mando un saluto mega grande vi auguro buon proseguimento di serata e ci vediamo alla prossima ciao ciao